...che come credo sia noto contiene linee guida in termini di ruolo della vigilanza e della sorveglianza nel definire chi è la gestione di NPL, sviluppo dei mercati secondari, sviluppo di un blueprint, quindi di un progetto, diciamo, di un meccanismo comune per MedBank a livello nazionale che secondo noi devono essere utilizzate su base volontaria delle banche. Il valore di scambio di un NPL dipende dal mercato degli NPL, quindi non è che dipende da una legge che stabilisce il prezzo ex ante. È chiaro che c'è un problema, ma questo è ben noto, che nel momento in cui si maturano degli NPL nel bilancio di una banca, la banca probabilmente si troverà a dover affronteggiare una perdita, affronteggiare la quale un aumento di capitale e poi cederlo a una banca, la può cedere a una BadBank, cioè un'agenzia, una entity che gestisce queste sofferenze, la può cedere direttamente sul mercato, quindi non mi pare che ci siano, come dire, regole che dicono quale debba essere il prezzo di cessione di uscita dal bilancio di una banca. C'è enfasi, e questo mi sembra molto importante, sulla questione di meccanismo di mercato che permettano di identificare il vero valore di scambio di queste sofferenze, così che queste sofferenze poi escono dal mercato e quindi alleggeriscono il bilancio. Ma dio porco, non devono devonare. Così appunto il Ministro Paduan, mentre oggi appunto arriva la notizia che la Cassa degli Sparmi di Genova collocherà entro il 2017 un miliardo e duecento milioni di non profondi, sofferenze bancarie. La Banca d'Italia fa sapere che le sofferenze sono in leggero calo a maggio a duecento e due miliardi, ma non tiene conto questo dato di cinquanta miliardi in meno che arriveranno dalle banche di Monte di Paschi e delle banche. Venete, Moria Longo, le 1924 ore, buonasera. Buonasera. Moria, la domanda è molto semplice. Dopo il via libera di Bruxelles, nonostante qualche mal di pancia in Germania, però sull'operazione delle banche venete, non in generale. Possiamo dire che, insomma, si va verso la discesa e non ancora la salita sul fronte alle sofferenze bancarie e quindi quello che sta zavorrando, secondo le banche, spesso hanno ragione, anche la loro capacità di fare prestiti, nuovi prestiti, è quello che ha drenato una marea di miliardi al sistema, perché non dimentichiamoci tutti gli aumenti di capitale che le banche italiane, piccole e anche grandissime. Hanno dovuto fare in questi anni perché, svalutando le sofferenze, cioè svalutando i soldi che tu pensavi di poter riavere dalla persona o dalla impresa a cui li hai prestati, ti si abbatte il capitale e quindi devi fare aumenti di capitale. Quindi possiamo dire che è iniziato, diciamo, almeno al giro di boa o no? Allora, al giro di boa sì, perché le banche italiane, parliamo di quelle italiane che poi è il paese più grande che ha il maggior problema di credito in sofferenza. Hanno negli anni passati svalutato molto, fatti molti aumenti di capitale.